A proposito di giocate, perché potete condividere grazie alla nostra app di giocate, partiamo dalla giocata della settimana. In pratica oggi abbiamo scelto Matteo Donatiello, classe 2006 della squadra per l'uso Academy, con l'elastico. Cosa ne pensi di questa giocata? Penso che qui nel video mostri totalmente a pieno le proprie capacità. Si vede che comunque ha una giocata veramente sciolta e soprattutto il gioco esce abbastanza bene. Penso che comunque in futuro abbia delle ottime capacità di spicco nel mondo del calcio. Anche perché l'elastico è una giocata molto difficile da fare perché deve essere rapido, subito con il sesso piede, fare un movimento a ubriacare l'avversario. L'inventore fu Ronaldinho. Ricante in maniera perfetta Matteo Donatiello. Sì, può essere veramente simile a Ronaldinho. Speriamo che anche in futuro diventerà come Ronaldinho. Noi ovviamente gli auguriamo una grande carriera. Ovviamente continua a seguirci su Tascout.com.